Dottoressa Florio, oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità istituita dall'ONU nel 1982, allora anche l'Archivio di Stato non ha voluto far mancare una sua iniziativa con carte senza barriere. Anche oggi l'Archivio di Stato di Agrigento ripropone il proprio impegno in favore delle persone con disabilità per garantire quindi a tutti l'accessibilità al patrimonio culturale, nello specifico al patrimonio archivistico. In una giornata così significativa che ricorda il ruolo della diversità e soprattutto ricorda a tutte le amministrazioni l'impegno nel garantire percorsi di accessibilità e percorsi di inclusione sociale, l'Archivio propone un nuovo percorso sulla scorta dell'esperienza già maturata in occasione delle giornate europee del patrimonio. Carte senza barriere in questa occasione è un percorso dedicato alla documentazione notarile per far scoprire al pubblico sempre più ampio e diversificato un altro aspetto quindi del nostro patrimonio archivistico che è proprio il fondo notarile. In questa esperienza quindi sono nuovamente previste modalità di fruizione ampliata e integrata e quindi comunicazione multimediale, integrazione quindi di pannelli didascalici e di supporti in braille per le persone ipovedenti quindi e non vedenti. Di che stato di salute gode l'Archivio di Stato di Agrigento? L'Archivio ha in cantiere intanto nuovi e numerosi progetti per l'anno 2022. A breve riprenderanno in presenza anche le attività con le scuole, in primis i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e sono già programmate altre attività con enti e associazioni quindi a decorrere dal 2022. Oltre alle attività ovviamente che continueremo a portare avanti sempre per garantire l'accessibilità e la fruizione ampliata del patrimonio archivistico. All'entrata della struttura ho notato che c'è in corso un work in progress potrebbe annunciarci qualcosa in merito? Stiamo lavorando per valorizzare sempre il nostro patrimonio e valorizzare questa volta anche alcuni aspetti del nostro lavoro archivistico quindi legato alla riproduzione dei documenti. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire al momento perché poi con il 2022 ci sarà un percorso dedicato a questa nuova esperienza.